Il Cesena vuole tornare al successo dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite. La Roma, in testa alla classifica, vuole mantenere il vantaggio sulle inseguitrici e dar seguito alla netta vittoria contro la Samp. Buongiorno da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti al centro sportivo Rognoni di Cesena per la ventunesima giornata del campionato Under-18. Passiamo alle formazioni partendo dai padroni di casa che rispetto al pareggio contro l'Empoli effettuano un solo cambio. Rossi al posto di Domeniconi, terzino sinistro. Ben 5 le novità per gli ospiti rispetto alla vittoria contro i blucerchiati. Ienko al posto di Boldrini in difesa. Ivkovic sostituisce Ba a centrocampo e poi cambiano tutti i trequartisti. Dentro Costa, Graziani e Bolzan, fuori Polletta, Mannini e Nardozzi. Alza la testa e sventaglia in direzione di Costa che difende il pallone. Sta arrivando anche Cavacchioli che la mette in mezzo di prima. Bolzan! Montalti risponde presente. Campedelli in due su di lui e l'u della pressione. Vada Amadori, sponda per casa dei. Col destro Razumeyes, poi Amadori. Non trova lo specchio sulla ribattuta. Doppia chance per il Cesena. Ivkovic di prima per Ienko. Cross a centro area. Graziani arriva sul pallone, palleggia. Graziani calcia! Misitano ci aveva messo il piede ma Montalti ha fatto una parata strepitosa. Giovannini sul pallone. Casadei e Castori a togliere visibilità al portiere. Parte Giovannini! Razumeyev, sensazionale! Trocchia allarga per Rossi ma ha capito tutto. Cavacchioli che arriva sul fondo, la mette in mezzo. Graziani di testa! Centra la traversa a tre metri dalla porta. Palla allargata per Ienko. Si accentra il numero tre. Chiede e ottiene l'uno-due da Graziani. Cross dentro! E per poco Valentini non se la butta in porta. Verticale a cercare Amadori. Ringhia su di lui Golic senza fallo secondo l'arbitro. Cichella in avanti. Bolzan stop! Bolzan! La scaraventa sotto la traversa. Dà un'occhiata al guardaline. Ma è tutto buono. Vantaggio della Roma che alla fine è riuscita a sbloccarla. Amadori lotta con Ienko. Si gira, viene sgambettato. Sarà calcio di punizione che il Cesena ha già battuto. Attacca l'area di rigore e coveri. Il pallone è per Amadori che sterza. Amadori! La mette nell'angolino. Ha pareggiato il Cesena con una gran giocata da attaccante vero di Amadori. Campedelli va tra le linee da Giovannini. Vediamo cosa inventa il 10. Sterza può anche calciare. Lo fa col destro! Razume Ievs ha preso anche questa. Siamo ormai a tre minuti e mezzo di recupero. Giovannini sul pallone. Fischia l'arbitro. Va Giovannini forte! Razume Ievs forse l'ha sfiorata. Di sicuro la palla ha centrato la traversa. Sarà probabilmente l'ultima giocata della partita. Ce l'ha a disposizione la Roma per provare a vincerla. Cross lunghissimo. Non ci può arrivare nessuno. Termina direttamente sul fondo. E l'arbitro dice che non c'è più tempo. Una bellissima partita ricca di emozioni. Tra Cesena e Roma finisce 1-1. Adesso in 9 ovviamente ne vogliamo capire. Ma non la spiecta di emozioni instante. Argusono è nella prima parte. Con una parte perévoli della transndazione.